ciao ragazzi un saluto da astrale eccoci con un nuovo appuntamento nelle terre di keldorania demo vai con la sigla quella più bella è questa spada a forma di matita non può essere altro che una spatita questa è una penna a forma di lancia quindi siamo nella lancenna se vi siete persi la loro unione aiaiaiaiai andate a vedere cosa è successo nello scorso video no non siete adatti a certi video oh sì e questo cos'è ma è un'ascia o un pennello ascia più pennello ascello un pennello senza colore e come una donna senza un amore secondo me alla fine verrà bene forse tu che dici verrà bene verrà bene sto facendo io hai forse qualche dubbio ciao 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 sono molto soddisfatto è venuto proprio bene tu che ne pensi? ciao mi serve un'ascia mi sono rotto la mano che dolore ragazzi andiamo avanti adesso velocizzo la colorazione di una classe di un personaggio presente sul mio sito adesso vi faccio vedere le fasi finali e tutto il procedimento per poi terminarlo questo disegno farà parte di una classe presente sul sito ciao Grazie a tutti. 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 No, 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 no. È troppo futuristico. Non è qui il tuo posto. Bene ragazzi, siamo arrivati in fondo anche a questo video. Grazie per essere rimasti fin qui. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale e a commentare nel prossimo video ci sarà una sorpresa. Un saluto a tutti.